...la palla bellissima, no? ...di scherzo e per ricordare l'aria. Però sì, in effetti può fare un contributo perché la salernità acqua attacca, però non c'è nello spazio delle parti. ...como sempre, la possibilità di generare serie di giusti, ...e non sono, se i partiti mi possono scogliere i primi, ...e non è più, direttamente l'area del supercatto. ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.